Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io, la maggior parte di voi non mi conoscono, io non li riconosco oppure dopo un po' che li osservo e vado indietro con la memoria, mi ricordo, c'era qualcuno che era a scuola con me. Però appunto sono lontana da Masera da così tanti anni che non immaginavo di sollecitare in voi tanta solidarietà, tanta passione. Perché io penso che quello che è avvenuto a Masera, quello che mi hanno raccontato non era una solidarietà solo formale, era qualcosa di più. Era un po' condividere, forse esagero, ma condividere un po' gli obiettivi che a me avevano portato in Iraq, cercare di informare l'opinione pubblica su quello che sta avvenendo in quel paese, cercare di andare, di scavare, di andare un po' dietro le immagini che ci arrivano ogni giorno. Quindi questa solidarietà è stata molto importante per me, prima si diceva che sono tutti così i montanari, spesso mi dicono che sei così tosta probabilmente perché vieni dalle montagne, perché le montagne rendono molto duri e quindi probabilmente è questo che ti rende così ostinata, così convinta delle tue idee, dei tuoi obiettivi. E penso che questa solidarietà sia stata molto importante anche per farmi resistere durante la mia prigionia. Naturalmente io non sapevo allora quello che succedeva, però secondo me c'era una sorta di messaggio, qualcosa di telepatico, perché comunque alcuni messaggi mi arrivavano. Alcune immagini le ho anche viste, perché i miei rapitori all'inizio mi hanno fatto vedere una volta alla televisione, un paio di volte, la prima volta ho visto alla televisione quando annunciavano il mio rapimento. E la seconda volta ho visto la mobilitazione che c'era stata a Roma quando hanno fatto scendere il mio ritratto davanti al Campidoglio. Naturalmente era una grande emozione, era un grande aiuto per me perché così ho pensato che la gente non mi avrebbe abbandonata, che molti avrebbero fatto qualcosa per liberarmi. E voi avete fatto molto per liberarmi, perché la mobilitazione che c'è stata è stata importante e io penso che non abbia lasciato assolutamente insensibili nemmeno quelli che mi avevano rapita. Quelli che mi avevano rapita all'inizio non sapevano chi io fossi, l'hanno scoperto dopo. Io ogni tanto chiedevo ma cosa sta succedendo in Italia, cosa sta succedendo e loro mi dicevano ci sono due fotografie dappertutto, c'è la gente dappertutto che protesta in piazza. Mi dicevano gli italiani stanno con te e questo naturalmente era un po' esagerato, era un po' una semplificazione, anche perché noi comunicavamo in diverse lingue con parole molto semplici perché non era così facile comunicare. Però mi facevano capire che c'era qualcosa che si muoveva e quindi per me era molto importante perché quando si sta chiusi in una stanza, spesso al buio, da soli, 24 ore su 24 con i propri pensieri, è veramente molto 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 dura anche se i miei rapitori non mi trattavano male, non posso dire che mi abbiano trattato male dal punto di vista puramente materiale, mangiare, medicina eccetera, ma il problema è che io ero prigioniera e loro mi trattavano da prigioniera. Essere prigioniera vuol dire essere solo con se stessi, non mi concedevano neanche un libro, un pezzo di carta, una penna, quindi io potevo solo pensare e continuare a pensare, ormai alla fine non riuscivo più neanche a dormire, era veramente durissimo, il rischio di uscire di testa era molto forte e allora il pensiero che comunque in Italia ci fosse una mobilitazione era per me fondamentale. Quindi io lo pensavo e in realtà questa mobilitazione c'è stata, anzi quando sono tornata a casa ho scoperto che era molto di più di quanto io non cedere, a mantenere la mia dignità, io dovevo salvaguardare la mia dignità, questo era molto importante e questo naturalmente l'ho fatto per me ma potessi immaginare. Quello che si era mosso io non assolutamente era al di là di ogni mia possibile immaginazione, che si è mosso un po' dappertutto e che si è mosso anche qui, nell'ossola e questo è molto importante perché io pur essendo lontana da molto tempo dall'ossola, quando facevo riferimento, quando io dovevo resistere pensavo molto all'ossola che aveva resistito, io pensavo a delle immagini che mi aiutavano a resistere ovviamente quindi l'ossola è un simbolo della resistenza e questo era importante. E poi anche quando i miei rapitori mi parlavano della loro resistenza perché loro si richiamavano alla resistenza irachena e allora io gli dicevo ma voi sapete che avete rapito? E allora gli spiegavo che mio papà era partigiano, che io venivo dall'ossola, la resistenza che c'era stata nell'ossola contro l'occupazione e cercavo di fargli capire che loro stavano sbagliando tutto, che avevano sbagliato prendendo me, sequestrando me ed era uno scontro molto, a volte molto al limite perché io con loro cercavo di essere sempre combattiva perché ero anche convinta che solo combattendo in continuazione io non sarei mai diventata succube dei miei sequestratori gli avrei sempre tenuto test e questo mi aiutava a... Perché davvero è stato un momento di coralità, questo territorio si è espresso assieme, è stato un momento importante ecco io volevo... L'ho fatto anche per tutti quelli che sono stati accanto a me durante il periodo del mio sequestro quindi io vi ringrazio moltissimo, il vostro aiuto è stato veramente importante, determinante forse questa esperienza ha dato a tutti qualcosa, anche se è stata molto dolorosa per tutti noi non solo per me, penso che per tutti quelli che hanno seguito, che hanno vissuto questa storia è stata una storia dolorosa, però penso che a tutti noi abbia dato qualcosa di più qualcosa, un po' di umanità in più forse ci ha fatto conoscere un po' di più gli altri anche perché è stata una solidarietà appunto molto trasversale e ha superato alcune divisioni, alcuni limiti e a me ha fatto conoscere per esempio persone che erano lontanissime dal mio mondo per esempio gli agenti che mi hanno salvata gli agenti segreti, i servizi segreti per me è sempre stato un mondo assolutamente sconosciuto per la mia esperienza anche politica i servizi segreti erano quello che di più lontano ci potesse essere e quando io stavo sulla macchina i miei sequestratori mi hanno lasciato quando mi hanno detto che mi liberavano mi hanno lasciato in un posto su una macchina mi hanno detto adesso aspetta e ti verranno a prendere e ho aspettato per mezz'ora, per me è stata veramente un'eternità circa mezz'ora, non so forse il tempo per me si era molto dilatato perché era una situazione di terrore totale e io pensavo, chissà cosa succederà quando qualcuno viene a prendermi mi potrò fidare, cosa mi dirà, chi sarà sarà veramente qualcuno che mi vuole liberare o sarà solo un altro gruppo che mi viene a prelevare ed ero veramente terrorizzata finché ho sentito una voce che mi ha detto Giuliana, Giuliana sono Nicola io sono amico di Gabriele e di Pierre sono venuta a prenderti, sei libera adesso ti porto via e ho sentito che era una voce amica era una e penso che una persona che riesce a trasmetterti immediatamente questo senso, questa fiducia deve essere una persona straordinaria e io per venti minuti ho conosciuto questa persona straordinaria che era Nicola Calipari e poi però lui mi aveva liberata poi mi ha protetto e per proteggermi è morto e io penso che questa cosa non, questa esperienza non potrò mai dimenticarla nella mia vita perché quando una persona ti muore addosso per proteggerti è una cosa assolutamente indescrivibile e poi sono tornata in Italia e ho scoperto che era Nicola Calipari molto di più di quanto avesse avuto la possibilità di conoscerlo in quei venti minuti ho scoperto quante cose positive aveva fatto prima quando era l'ufficio immigrazione di Roma quanto ha lottato contro la corruzione in Calabria quante cose aveva fatto prima e per me allora ero assolutamente una persona sconosciuta una persona però ho capito subito che era una persona straordinaria così come poi avrei scoperto che era una persona straordinaria la moglie di Calipari e quindi io penso che forse il nostro compito non è ancora finito perché io penso che sia molto importante cercare di capire fare di tutto per capire cosa è successo quella notte a Bagdad perché la morte di Calipari non venga archiviata come un incidente un banale incidente o come un fatale incidente non è stato così e quindi io spero che la magistratura sta indagando spero che però secondo me è importante l'opinione pubblica che stia sempre attenta che premi in continuazione perché questo caso non venga archiviato io penso che lo dobbiamo alla moglie di Calipari e ai suoi figli e penso ancora che non potremo non dobbiamo dimenticare gli altri ostaggi che sono ancora che sono ancora ostaggi in Iraq soprattutto ricordo i giornalisti ma non ci sono solo i giornalisti ce ne sono anche altri che sono assolutamente dimenticati però in questo momento vorrei ricordare Floranzo Benaz e Hussein che è il suo traduttore perché non solo perché Floranz la conosco ma perché io penso che finché ci saranno ostaggi noi non potremo sentirci liberi e neanche gli iracheni finché ci sono ostaggi anche gli iracheni saranno un po' saranno sempre meno liberi e naturalmente possiamo fare molto anche per rendere gli iracheni più liberi perché ora gli iracheni sono sotto occupazione non possiamo dimenticarcelo e queste cose succedono anche i sequestri perché quello è un paese occupato perché è un paese in guerra e la degenerazione della guerra porta a delle cose terribili tra le quali anche il sequestro di giornalisti e il fatto che delle persone come me Calipari e l'altro agente del sismo che viaggiavano su quella macchina quella notte del 4 marzo possano essere colpiti da proiettili senza un motivo grazie a tutti grazie ho visto ma io compreso molti di noi emozionati le parole di Giuliana questi racconti così forti così intensi noi abbiamo vissuto questo periodo questo mese di sequestria di Giuliana sì da una parte partecipando a tutte le iniziative ma io personalmente e da altre persone ci siamo preoccupati molto anche di stare vicini alla famiglia di Giuliana in particolare al papà e alla mamma che a dire la sincera verità talmente forte e forse tante volte erano loro magari a sostenere a confortare chi veniva a trovarli in quel momento così triste io chiederei a Franco se voglia adesso ti chiedo le parole di far raccontare in poche parole tutto quello che è passato che avete passato tu a Tonnetta Ivi Claudio la piccola è qui tanto vorrei ringraziare tutti per per la partecipazione che c'è stata per la liberazione di Giuliano e oltre a quei momenti che erano molto difficili per me per la mia famiglia vedo che anche adesso c'è molta c'è molta gente che è qua presente che non pensavo che sarebbero sarebbero venuti in questa sede questa sera tanti penso che non non pensavo che ci fosse così tanta gente che sarebbe venuta per per sentire mia figlia a dire quello che era successo quando ero stata sequestrata ma io voglio anche dire che mi sono state tutte le persone che sono venute a trovarmi in quei periodi era sempre piena la casa di gente però a me non è che davano fastidio ma mi supportavo a passare le giornate che se non ci fossero state loro non so come sarebbero finite le giornate sempre lì a pensare a pensare come sarebbe finita la faccenda di mia vita la gente che è venuta a me mi ha fatto un grosso piacere anziché come dicono tanti magari davano fastidio a me non mi ha dato fastidio nella gente che sono venuta e neanche i giornalisti anche se qualche volta i giornalisti fanno il suo mestiere e cercano magari di premere un po' far dire magari qualcosa di più di quello che si voleva dire però dico che sono stati veramente grandi tutti nell'aiutarmi a sopportare il periodo di un mese il sequestro di mia figlia io ho sempre detto siccome nella mia vita dico che sono sempre stato molto fortunato devo dire mi è capitato tante cose anche a tempo dei partigiani però alla fine andavo a finire tutto bene dicevo e anche questa volta e come le altre volte mio figlio è liberato infatti il franco è stato definito un mito una di quelle persone che faceva riferimento Franco è sicuramente Don Renato Sacco che lo vedo qui seduto davanti a me che veramente ti inviterei a salire qua su e a dirci due parole tu che sai parlare così bene ti prego vieni su credo che la serata di stasera era per ascoltare Giuliana io non so cosa dire chiedevo prima personalmente a Giuliana la sua presenza in Iraq credo che quello che ha vissuto lascerà un grosso segno in lei abbiamo cercato così io devo dire non conoscevo l'avevo già detto quella sera Mila Dossola né Giuliana direttamente né la famiglia però essendo un po' legato all'Ira che mi ha detto beh insomma diventiamo legati per questo e un po' ridendo e un po' scherzando abbiamo cercato anche di collegarci con le persone che erano lì che potevano dare un minimo di aiuto e di speranza per cui tra tutte le persone che si sono mobilitate di cui si è già parlato prima abbiamo portato anche un po' di vescovi un po' di preti in casa sgrena senza doppi fini di conversione o di altre cose e quindi c'è stata la telefonata del patriarca era il giorno del video del patriarca Delli di Bagdad un quarto d'ora o un minuto e finiva più cullano poi il giorno dopo la liberazione quando Ivan invece era a Roma siamo venuti con il vescovo attuale di Kirkuk e così quasi a dire poi lui ripartiva il giorno dopo era un po' come dire beh lui torna in Iraq magari là può fare più qualcosa ma come se fosse dire lì la sistemiamo così in poco tempo e credo che al di là di questo e al di là del ruolo religioso che parte dal parroco di Masera anche al nostro vescovo Corti credo rafforza ancora di più quella trasversalità che si diceva di appartenenza politica sociale religiosa il rappresentante della comunità islamica e forse davvero sarebbe un tesoro da valorizzare però questo è quello che è stato fatto poi ci sono altri rapimenti l'altro giorno abbiamo avuto la gioia di vedere ritornare la nostra Clementina però Giuliana ci ricordava quante altre persone sequestrate il vescovo ausiliare Monsignor Guarduni ci diceva ci sono tantissimi racheri perché ormai il rapimento rischia di diventare un po' un modo anche per tirar su qualche soldo dal rapimento a basso prezzo che dice mille euro a rapimento di decine e decine e centinaia di migliaia di euro o di dollari e quindi il ricordo con tutte queste situazioni e anche il dire che tutto questo dipende da una follia della guerra forse dobbiamo non stancarci mai di dire che la guerra è un'avventura senza ritorno e che la guerra non è mai la soluzione di nessuna realtà di nessuna prospettiva oggi credo non è così neanche facile dirlo facciamo un grosso business con la vendita delle armi proprio in Iraq in questi giorni è stata trovata in mano la guerriglia mi sembra 20.000 pistole dei Beretta ma dei Nicali e quindi alla faccia della nostra sicurezza noi andiamo poi a dare armi a chi può poi mettere e minare la nostra sicurezza anche se volessimo ragionare solo di questo quindi credo che il lavoro da fare sia ancora tanto ma credo che una serata come questa la si debba vivere con il cuore un po' gonfio certo perché Nicola non c'è più perché c'è una vedova ci sono dei figli che piangono la morte di un papà su cui è doveroso chiedere luce e chiarezza e su cui è legittimo avere qualche dubbio che davvero la verità possa emergere quindi non rassegnarsi ma insieme a questo era la gioia così di riabbracciare Giuliana e di riascoltare da lei con la sua passione appunto le parole le testimonianze che credo siano la cosa più importante di questa sera ecco bene Giuliana avrei visto dal fondo che si è aperto uno striscione con un bentornata e dagli amici della festa c'è anche un pensierino un pensierino floreale che mi sarà donato a due maseresi un po' particolari perché sono due giovani maseresi che il 19 di febbraio erano a Roma a sfilare per quella bellissima manifestazione per la pace e per la tua liberazione eravamo giù al circo massimo il fondo che era Giuliana Castellina tua mamma e tuo papà eravamo sul palco noi eravamo di soli ci sono le volte perché c'era anche questa signora qui ci ha fatto strada senza di lui non saremmo arrivati più sotto il palco in quella venti minuti e mezz'ora di gioia finita che abbiamo provato quando è arrivata la notizia della liberazione prima che purtroppo arrivasse l'altra notizia noi avevamo già immaginato e pensato che a Masera avremmo fatto una grande festa una festa gioiosa per il ritorno di Giuliana poi purtroppo le cose sono andate in modo diverso e credo che la serata di questa sera sia il modo migliore che avremmo potuto immaginare di chiudere tra parentesi sembra brutto il termine però di chiudere questa storia molto triste Giuliana ti passerei ancora il microfono una volta se voglio dire ancora qualcosa se qualcuno volesse fare delle domande Giuliana è disponibile a rispondere volevo ringraziare Giuliana per aver resistito per essere ritornata qui tra di noi naturalmente al sacrificio di questo uomo dello Stato così coraggioso tu sei stata rapita perché eri eri in Iraq per darci delle informazioni per darci delle notizie e quindi se te la senti ti chiederei di dirci qualche cosa darci un frammento delle cose brutte che hai potuto vedere in Iraq prima cioè il motivo per cui eri lì a Fallucia ho letto tanti tuoi articoli sono in festa qualche cosa se vuoi ricordarci perché insomma il tuo rapimento è avvenuto perché volevi testimoniarci qualche cosa di questa brutta guerra sì io in effetti sono stata rapita all'uscita dall'università di Baghdad all'interno della quale c'era proprio lì vicino una moschee intorno alla moschee c'erano molte tende in queste tende erano ospitati i profughi di Fallucia Fallucia è una cittadina che non si trova molto lontano da Baghdad che è diventata in Iraq un po' il simbolo della resistenza contro l'occupazione e proprio per quello è stata sempre particolarmente bersagliata dagli americani è stata a lungo bombardata già in aprile e poi questo naturalmente ha fatto sviluppare ulteriormente una forte resistenza all'interno di questa cittadina che è una cittadina molto conservatrice che quindi vedeva le interferenze delle truppe straniere i soprusi perché poi quando entravano gli americani per cercare gli uomini della resistenza così non badavano a niente entravano nelle case di notte tiravano giù le donne e i bambini dal letto così e queste erano tutte cose che naturalmente per la popolazione di Fallucia erano insopportabili quindi c'è sempre questo non faceva che aumentare la resistenza la combattività nei confronti delle truppe io mi ricordo le ultime volte che ho potuto fare ancora la strada o che si doveva fare la strada da Mana Baghdad via terra perché non era possibile andare in un altro modo quando si arrivava nelle vicinanze di Fallucia tutta l'autostrada tutti i guardraili dell'autostrada erano tutti accartocciati perché erano segni dei combattimenti che c'erano stati tra le truppe americane e la resistenza irachina dopodiché il fatto che ci siano sempre fossero sempre questi scontri stati tentativi degli americani di entrare in città insomma a un certo punto questa città gli americani non sono riusciti a entrarci quindi l'hanno isolata e nel momento in cui l'hanno isolata è diventato intanto impossibile andarci e all'interno si sono sviluppate anche una degenerazione della guerriglia perché le posizioni sono sempre più estremizzate siccome era una zona dove gli americani non riuscivano a entrare si sono rifugiati lì anche dei gruppi legati al terrorismo internazionale ora nessuno poi ha mai avuto delle prove concrete ma comunque anche gli abitati di Fallugia mi dicevano che effettivamente c'erano dei gruppi di arabi quindi non di iracheni che si erano nascosti lì per distruggere questa situazione in vista delle elezioni gli americani hanno pensato bene di praticamente distruggere la città con i bombardamenti ma noi non abbiamo mai saputo esattamente cosa è successo a Fallugia perché i giornalisti non avevano accesso gli unici giornalisti che avevano accesso erano quelli che andavano con le truppe americane quindi hanno avuto una visione e poi erano sottoposti alla censura degli americani e quindi abbiamo avuto una visione del tutto parziale di quello che è successo forse vi ricorderete il fatto non so se l'avete visto alla televisione il fatto di quel marin che spara su un combattente disteso a terra dentro una moschea ferito e disarmato che aveva fatto molto scarpore questa immagine il giornalista che aveva fatto che ha ripreso questa immagine era un giornalista che stava a seguito delle truppe americane però per aver diffuso questa immagine è stato espulso è stato mandato subito via perché l'aveva fatto contro le regole che aveva sottoscritto per entrare come giornalista e poi vuol dire arruolato perché sei a seguito delle truppe quindi io volevo andando a intervistare questi profughi di Fallugio avere un po' l'altra faccia di questo attacco alla città anche se tutti questi erano scappati prima dell'attacco a Fallugio perché quando si è prospettato questo attacco questo attacco massiccio la maggior parte della popolazione è fuggita e ha fatto bene perché altrimenti difficilmente sarebbe sopravvissuta a quei bombardamenti e io sono andata a intervistarli mi sono fatta raccontare molte storie perché poi loro avevano avuto racconti anche da gente che era stata dentro fino all'ultimo da alcuni che addirittura erano rimasti dentro la città perché erano quelli che avrebbero dovuto portare i servizi di emergenza come un autista di autoambulanza eccetera e dopo queste interviste tra l'altro erano state fatte in un ambiente anche un po' ostile perché questa gente era molto arrabbiata con gli occidentali non importava se io stavo dalla parte dei pacifisti che condannano la guerra l'occupazione eccetera la loro la loro rapia si esprimeva comunque contro tutti gli occidentali e comunque io questa storia queste interviste non sono ancora riuscita a pubblicarle perché poi ho avuto un po' un blocco su questo però sto scrivendo un libro e in questo libro sicuramente ci sarà questa storia di Falluge forse ancora prima le pubblicherò sul manifesto un cd sul quale sono state registrate tutte le fotografie che Mauro ha fatto in queste varie iniziative manifestazioni a Roma si sono solo due cose sono delle fotografie Giuliana ne avrà credo a parte l'ufficio che abbiamo avuto l'occasione di visitare quando siamo stati a Roma con alle pareti tra l'altro i quadri di suo fratello e questa è una nota di colore avrà sicuramente l'ufficio e la casa piena di fotografie queste sono fotografie fatte da chi in prima persona noi c'eravamo alla manifestazione di Roma il 19 di febbraio c'eravamo ai funerali di Nicola purtroppo in quella giornata tristissima e c'è un file che io ho voluto allegarti con alcune pagine di mie riflessioni su quella giornata io ho voluto scegliere come copertina di questo cd una foto di Albert Steiner del 1957 ed è una fotografia che già parlava di pace ci sono delle rose che crescono da un casco di un militare per cui comunque la speranza che anche dopo le guerre ci sia la pace davvero per tutti grazie qualcun altro vuole approfittare della presenza di Giuliana per fare qualche domanda bene allora io direi chiudiamo grazie Giuliana di averci dedicato questa serata è stata splendida sono personalmente poi particolarmente contento che sia finita in questo modo troppo perché abbiamo questa triste storia che ha sconvolto ogni cosa vi ringrazio tutti per essere intervenuti chi vuole fermarsi poi qui alla festa degli amici di Don Gianni io credo che loro saranno anche attrezzati per ospitarci visto che sono stati così gentili con noi a darci questo spazio io credo che adesso potremmo potrebbe anche fermarsi qui e proseguire la serata io sarò sicuramente uno di quelli conto di invitare un po' di miei amici a passare la serata con me grazie a tutti gli interventi grazie a tutti prossima sera grazie